In tutti i mercati torinesi è attivo Mercatop, il sistema di assegnazione agli ambulanti dei posteggi non occupati. I vigili possono vedere in tempo reale i posteggi disponibili e assegnarli agli ambulanti titolari di autorizzazione rilasciata da un qualsiasi comune nel territorio nazionale. Gli ambulanti possono consultare rapidamente le autorizzazioni e le posizioni in graduatoria e possono effettuare il pagamento collegandosi tramite smartphone, tablet o PC al servizio online Ambulanti Web disponibile su tre siti www.torinofacile.it, www.comune.torino.it o mercati.comune.torino.it. È possibile effettuare il pagamento utilizzando il Bancomat, la carta di credito, SatisPay o SisalPay attraverso due tipologie di accesso, libero o con le credenziali Speed. Con l'accesso libero, l'utente deve inserire il numero e il comune di rilascio dell'autorizzazione. Se accede utilizzando Speed, invece, l'ambulante trova già nel sistema i dati relativi alle proprie autorizzazioni, i propri pagamenti e la propria anagrafica. Per ottenere le credenziali Speed è necessario consultare www.speed.gov.it Progetto della città di Torino, cofinanziato dall'Unione Europea, fondi strutturali di investimenti europei, programma operativo nazionale Città Metropolitane 2014-2020 e realizzato dal CSI Piemonte. Grazie. Grazie.